Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, una signora mi ha mandato un messaggio, mi ha detto vai a vedere, vado in via Brigata Casale, marciapiedi, modello Savano e se voglio aumentare i soldi. Mi è arrivato un messaggio, parto dal monumento qua un attimo, sono in via Brigata Casale, dove c'è la fabbrica Carraro, c'è la gente che si lamenta per via dei marciapiedi, guardate, poi a parte tutto io ho visto lassù in cima, vedete, i marciapiedi, guardate, guardate i marciapiedi, questi sono i marciapiedi di via Brigata Casale, guardate un po', guardate che roba, e dopo tu aumenti la busta paga alla Presidente del Consiglio, vedete, questi sono i marciapiedi, i marciapiedi di via Brigata Casale, inoltre vi faccio vedere tutto il resto, guardate lì, questo, e dopo cosa facciamo? Aumentiamo le buste paga alla Presidente del Consiglio, quella che mi ha sbattuto fuori, lei signor Borges non può filmare, non le do il divieto, non conosce l'articolo 21, o quello che ha detto il Presidente della Repubblica, che il diritto di cronaca è necessario, è un diritto, l'ha detto il Presidente della Repubblica, pochi giorni fa, bene, guardate un po', questo è il marciapiede di via Brigata Casale, che mi hanno detto di andare lì, adesso andrò a Lucinico, questa è la famosa fabbrica Cararo, ecco qua, chiudo qua il servizio, invece di aumentare, mettete qua i soldi, che c'è bisogno, veramente tanti, ciao a tutti!